Ok, adesso qualcuno forse, penso volesse parlare con me, prima ho ignorato perché è difficile per un attore interrompere, poi riprendere, poi in qualche modo dare delle risposte man mano che legge. Ecco, adesso se qualcuno vuole può parlare. Ok, no? Nessuno? Avevo letto un sacco di cose prima, dove sono? Non lo so, non me ne intendo, come faccio a vederle adesso? Giuseppe Aletti sta guardando, ho letto, benissimo Giuseppe, bravo, e poi penso che ci siano altre persone che stanno guardando, sono arrivate vari messaggi, non so, volevo parlare, dare una risposta, oppure complimentarmi, salutare, non lo so, come si fa? Ah, vabbè, oh, i tuoi spettatori, vediamo, quali sono? Non vengono fuori, non lo so, io non sono tecnologico molto, scusate, non sono proprio il massimo della tecnologia. Ecco, che altro posso fare? Scrivi un commento, no, no, grazie. Angela Ron ne sta guardando, grazie. Beh, è troppo complicato per me, sono negato in qualche modo. In diretta, grande, ciao Alessandro, ma si può anche parlare, interloquire, o è solo attraverso messaggi? Rispondetemi, qualcuno mi risponda. Pensavo di sentire la voce di qualcuno, ma evidentemente non è possibile. Vedo dei cuoricini che arrivano, chi lo sa? Va bene, allora, un saluto a tutti, un bacio, presto, arrivederci, solo attraverso messaggi. Grazie, Paola Ercole, ma per ora sono solo grazie, che bello, che coso, ciao Alessandro, c'è qualche domanda? Splendido pomeriggio, grazie, questa è Viviana Sposito. Andiamo avanti, io, Graziano Spadaro, grazie, grazie anche a te che mi hai ascoltato. Maestro, lei è un grande, complimenti per le declamazioni. Ecco, Teresa Rosito, non amo il verbo declamare. Per me la declamazione è quella altisonante, come quant'uno fa, e come potevamo noi cantare, capito? No, questo io recito e porgo, mi metto in comunicazione con gli altri con umiltà. Ecco, quindi, usiamo la parola recitare o lettura o quello che volete. Declamazioni potete… questo verbo, non so, Mussolini declamava dal balcone di Piazza Venezia, ecco. Altri attori che non nomino hanno declamato, ecco, questa Maria Luisa San Giuliano, ciao a tutti voi, con tanto, tanto affetto, in bocca al lupo, augurissimi a Giuseppe. A me no? Oh, e che è? Grazie comunque. Anton Giulio Lorfida, un abbraccio maestro, grazie. Yolanda Leotta sta guardando. Ecco, ma parla Yolanda Leotta, perché non scrivi qualcosa? Bellissimo quello che ha detto, umiltà, sono pienamente d'accordo, è quella che io predico. Quando vado a fare le masterclass, quando vado nelle classi a fare qualche corso di dizione, ecco, l'umiltà è la prima cosa per affrontare qualsiasi cosa. Perché a me questa epoca così arrogante, così piena di parole, questo parlarsi addosso, questo proloquiare, per la maggior parte dei casi, su tutto, anche su quello di cui non si sa nulla. Ci sono scienziati che stanno tentando di dare delle risposte per il coronavirus e c'è persone che sanno tutto. Bisogna fare così, bisogna fare colà, bisogna bere questo, bisogna fare quello, bisogna cosare. Ma stiamo scherzando, ma state zitti, ma ascoltate della bella musica, ce n'è tanta, ascoltate della bella poesia, leggetela, leggetela, ecco, questo che vi predico, leggetela ad alta voce. La poesia letta solo con gli occhi non serve a nulla, non ha importanza. L'occhio è veloce nel leggere e quindi non si ritiene tutte le immagini che si sono lette con gli occhi, ma se le leggi con la voce, ad alta voce, dopo te ne ricordi molte di più. Allora, Paolo Ercoli, grazie per le letture, splendido pomeriggio, grazie e anch'io sono stato felice di stare con voi. A Loisi, a Luigia Giudice, grazie, buonasera a lei che trasmette emozioni, ci mette il cuore. A questo, se non fosse così, uno a un certo punto dice, ma chi me lo fa fare? Qualcuno mi ha nominato anni fa missionario di poesia e mi sono assunto questo compito di andare in giro, di comunicare. Come un missionario che va a predicare in luoghi remoti la fede, io invece ho fede nella poesia e quindi comunico la poesia, le emozioni che dà la poesia e che sa suscitare nel cuore delle persone. Dice Quasimodo, tanto per non citarlo troppo, ecco che la lettura ad alta voce serve a cancellare il torbido che la vita di tutti i giorni accumula dentro il nostro cuore. Allora, leggete e cancellate il torbido, ne abbiamo quest'anno, questo periodo a quintalate di torbido, vorremmo veramente scacciarlo, ma purtroppo è pesante. Viviana Sposio, buonasera, splendido pomeriggio, Graziano Solaro, grazie, Teresa del Maestro, lei è un grande, complimenti per lei, ciao a tutti voi con tanto tanto affetto e in bocca al lupo. Ecco, un abbraccio maestro, abbiamo, buonasera a lei, questo chi è? Perché è scritto in azzurro, non vorrei cliccare e poi diventa una cosa, faccio un pasticcio. Ah, ecco, buonasera a lei, Maria Enrico, grazie di esserci, la sua voce mi cattura. Anche Caterina Letti, la sorellina, è in ascolto. Ciao Caterina, è lei che mi ha un po' istruito per come collegarmi, però ha detto che sono stato un bravo allievo, per cui sono riuscito senza troppa fatica a fare questo collegamento senza la sua guida. Ecco, aveva paura che avessi qualche difficoltà. Beh, una volta poi che si impara il gioco, si sta al gioco e basta, è quello che conta. Mi ha divertito, mi ha emozionato, mi ha commosso, mi ha dato il senso di stare in compagnia, in compagnia elitaria, in qualche modo, scelta. E non c'è stato bisogno di toccarci, di avvicinarsi troppo, di poter in qualche modo portare in giro un contagio. Ecco, sono... fatto così va benissimo. Vedremo quando potremo ricominciare tutto. Caterina Letti mi dice, ciao Alessandro. Sì, ciao Caterina. Ciao anche al tuo marito, eh, Angelo, che è un persona molto speciale. Angiolino. È un carattere che a me piace tanto. Sono andato immediatamente d'accordo con Angelo perché è sereno, si ridacchia un po', cerca di guardare positivamente tutte le cose. Non so se lo conoscete, comunque è il marito di Caterina, quindi cercate di conoscere, è veramente una persona che vale la pena di conoscere. Le ho inviato tanti commenti, forse sono rimasti indietro. Ah, ecco, la Leotta per ora non avevo visto niente. C'erano solo, sono in ascolto, c'è la Leotta che sta ascoltando, è qui con noi. E' stato un piacere assistere all'interpretazione delle bellissime poesie che ha selezionato. Grazie. Sono, avevo fatto anche una bellissima trasmissione, tempo addirietro, ho collaborato parecchio con la radio della Svizzera italiana e ho, erano varie puntate, le poesie del cuore. Ecco, queste sono alcune delle poesie del cuore, ecco, e quindi sono così, mi piacciono. No, ce n'è una, ecco, che se volete ve la leggo adesso, che avevo selezionato perché è una poetessa, è una donna che io amo molto, che purtroppo è morta a soli 26 anni, si è suicidata a Milano, insegnava a scuola, era un insegnante di scuola media, però era infelice perché viveva in una famiglia ricchissima che non amava quello che lei faceva, ha lasciato delle meravigliose poesie che sono state pubblicate tutte dopo la sua morte, si chiama Antonia Pozzi. Se non sapete chi sia, andatevela a cercare, ormai si trova proprio tutto. Voglio proporvi questa, che è dedicata a un cane. Sei stato con noi per undici anni. Una sera siamo tornati, eri disteso davanti al cancello, il muso nella polvere della strada. Le zampe già fredde, il dorso tiepido ancora. Ora sei tutto nella buca che ti abbiamo scavato. Ma gli undici anni della tua umile vita, i gemere per ognuno che partiva, i soffrire di gioia per ognuno che ritornava, e verso sera, se qualcuno per una sua tristezza piangeva, tu gli leccavi le mani, lo guardavi e gli leccavi le mani. Oh, gli undici anni del tuo muto amore, tutto qui, sotto questa terra, sotto questa pioggia crudele. Esitavi sulla ghiaia timida, sollevavi una zampa, tremando. Ora nessuno ti difende dal freddo. Non ti si può più chiamare, non ti si può più dare niente. Solo le foglie fradice morte cadono su questo pezzo di prato. E pensare che altro rimanga di te è vietato. Di questo il nostro assurdo pianto si accresce. La chiusa di questa poesia dà molto da pensare, perché si ritiene che mentre l'anima umana sia immortale, quella degli animali invece no. E questo appunto è ancora più assurdo pensarlo in questo momento per il suo cane, per Antonia Pozzi. Per lei il cane è ancora vivo e anche la sua anima. Grazie ancora. Buona serata a tutti voi. Sandra Camilletti, Caterina Letti, Antonia Alessandra Di Mari. Sì, grazie, Antonia Pozzi. Bravissima lei e bravissimo tu. È una delle mie poetesse preferite insieme a Vivian Lamarck e alla nuovissima, e alla nuovissima, giovanissima Cristina Vivinetto, che ho avuto il piacere di premiare più di una volta in varie giurie cui faccio parte. Ecco, Cristina Vivinetto, per chi non lo sapesse, si procura il libro che si chiama Dolore Minimo, con la prefazione splendida di Dacia Maraini. leggetevelo, vi farà bene. Piera Angela Feliciani, dice, non è vero, anche gli animali hanno un'anima. Maria Enrico, io non lo penso, le loro anime sono fuse in un abbraccio. Iolanda Leotta, grazie ancora per il meraviglioso intrattenimento. È stato un piacere. Carmela Costanzo, ciao, ho postato la stradina dedicata a vostro papà nel paese dove abito. Carditello, fratta maggiore. Auguri, grazie, mi fa piacere saperlo. Una notizia in più su una strada che non conoscevo dedicata a Quasimodo. Piera Angela Feliciani, la Bibbia è colma al riguardo di che cosa, di Maria Enrico, io non lo penso, le anime sono fuse nell'abbraccio, questo ve l'avevo già detto. e va bene. Buonasera, Dante è sempre un grandissimo, bellissimo, il quinto canto, trovo un delicato stil novismo, c'è una grande passione, c'è un grande amore, e bisogna pensare che Dante era un contemporaneo. Come noi leggiamo sulla cronaca nera di un delitto, Dante era venuto a sapere che Gianciotto che Gianciotto malatesta aveva ucciso la moglie Francesca da Polenta perché l'aveva sorpresa a amoreggiare con il fratello Paolo. Il tutto era nato proprio perché era andato Paolo a accogliere la sposa al posto del fratello Gianciotto e lei dal primo momento che l'ha visto ha sentito amore verso di lui e non poteva sentirlo verso Gianciotto che era gobbo, era un po' deforme e un uomo d'arme quindi molto violento e poco poco tenero, poco amante della poesia non si sarebbe mai messo a leggere poesia insieme a lei. Che facciamo? Chiudiamo. A riguardo dell'anima e degli animali allora dovresti citare i luoghi i passi della Bibbia dove si può reperire quello che dici come io quando leggo alle fronde dei salici parlo come fonte di ispirazione a un salmo della Bibbia il 138 che è che parla della schiavitù del popolo del popolo ebraico in Babilonia che allora i poeti avevano appeso gli strumenti con cui si accompagnavano nei loro cetri alle fronde dei salici se erano chiusi nel silenzio perché ritenevano che non ci fossero parole adeguate a rendere il loro dolore il momento della schiavitù del resto quel meraviglioso coro di papà Verdi come ho detto prima è uno dei miei padri nel Nabucco si è ispirato allo stesso salmo della Bibbia e va pensiero perché dice testualmente Arpador dei fatidi civati perché muta dal salice pendi come dirà poi Quasimodo anche le nostre cetre alle fronde dei sali anche le nostre cetre erano appese oscillavano lievi al triste vento ok devo cliccare fine eh cosa dite sì ci rivedremo non a Filippi come qualcuno ha dato appuntamento nella storia all'uccisore di Cesare e quindi è il il ci vedremo non lo so Rocca Impeliale nella tenuta di Mogol chi sa dove deciderà il mio amico Giuseppe Aletti che ha voluto questo incontro credo che dovete ringraziare anche lui perché è lui che sa come chiedere le cose quindi sicuramente tocca certe corde che sa come toccare non della chitarra né della cetra le corde del cuore va bene ragazzi arrivederci chiudo schiaccio fine qui digito fine né